Un volontario della Croce Blu di Rho, di 53 anni, è rimasto gravemente ferito dall'esplosione di una bombola d'ossigeno che stava caricando sull'ambulanza. È stato trasportato in un centro specializzato per grandi ustionati. Stava affrontando una salita lungo un sentiero nella Valle Taleggio quando è scivolato per un centinaio di metri in un dirupo ed è morto per i traumi riportati. È accaduto ad un 42enne di Vedano all'Ambro mentre stava facendo un'escursione con un amico a 1200 metri di quota. Si è celebrato anche a Lodi il giorno della memoria. Nell'auditorium di Via Polenghi Lombardo si sono ritrovati oltre 700 studenti della città per rivivere gli orrori dell'Olocausto. L'incontro si è aperto con i saluti di Duccio Castellotti, presidente della Fondazione Banca Popolare, ed è proseguito con l'intervento del prefetto Antonio Corona. Incidente stradale questa mattina sulla A4 tra asseriate e capriate in direzione di Milano. Cinque i feriti, soccorsi dal 118 e lunghe code per gli automobilisti. 700 borchie in bronzo sono state rubate al cimitero di Sant'Eufemia a Brescia. Si tratta delle borchie che fissano le lapidi di sette viali del cimitero, indaga la polizia locale. Estensione in vista per la rete di telescaldamento a Lodi. Ai primi di febbraio partiranno i lavori previsti per portare l'acqua calda generata dall'impianto di Cascina Codazza ad alcune zone della città che ne sono ancora prive. Si tratta di un investimento di ben 16 milioni di euro sostenuto da Astem Gestioni. Prevedibili disagi per la viabilità cittadina. Un uomo di 60 anni ha ucciso la moglie di 57 con diverse ferite da coltello e poi sceso in cantina si è suicidato. È successo a Brugherio. A scoprire il dramma è stato il figlio quarantenne della coppia. Sono state ben 54 i carabinieri che hanno eseguito controlli serali in tutto il Lodigiano. 15 le persone che sono incappate in denunce e segnalazioni alla prefettura per guida in stato di ebrezza o possesso di droga. Sventato un furto all'idol di Viale Milano a Lodi, i dati sono stati comunicati dal maggiore Elio Scarpa. Due pensionati di 80 e 82 anni che vivevano a Cugiono sono stati trovati morti nel loro appartamento. I due, fratello e sorella, sarebbero morti da una decina di giorni. L'appartamento è stato trovato in disordine, indagano i carabinieri. Ancora rifiuti abbandonati per le vie di Lodi. Questa volta un punto di ritrovo serale in zona Paratello si è trasformato in una mini discarica. Abbandonate in particolare una ventina di bottiglie di birra in vetro. Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da una vettura all'uscita dalla chiesa e è accaduto a Gessate, in via Badia, sulla posto, oltre al 118 anche i carabinieri di Cassano d'Adda. Anche i produttori cremaschi stanno per avere il loro logo made in crema. Mercoledì nella sede del liceo artistico Munari, la commissione incaricata di valutare i progetti elaborati dagli allievi del Munari, si esprimerà in via definitiva sui tre loghi che hanno superato le selezioni precedenti. Made in crema è stato voluto dal comune e da Reindustria. Una ragazzina di 12 anni e la sua mamma sono state investite in via Ungaretti a Spino d'Adda. Stavano attraversando la strada quando sono state gettate a terra da una vettura. Sono state portate in ospedale per controlli. È stato identificato dai carabinieri di crema il secondo malvivente sorpreso a bordo di un'auto rubata nel settembre dello scorso anno. Lungo la rivoltana i militari bloccarono e arrestarono un 29enne nomade di etnia Sinti sull'auto diversi oggetti rubati. Il suo complice, inizialmente sfuggito alla cattura, è un diciottenne in carcere a Torino per altri reati. Un ciclista di 82 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un grave incidente avvenuto in Viale Trento e Trieste a Cremona. L'uomo è stato urtato da una vettura e cadendo a terra ha picchiato violentemente la testa. Torna alla Ponchielli di Cremona il regista Antonio Latella. Lo fa con una commedia di Carlo Goldoni, il servitore di Due Padroni, completamente rivisitata dal noto regista che continua a dividere il pubblico sulle sue scelte innovative. Lo spettacolo è proposto dal Teatro Fondazione dell'Emilia Romagna, dalla Fondazione Metastasio di Prato e dal Teatro Stabile del Veneto. La rappresentazione è in programma martedì sera alle 20.30. È stato ritrovato nel Piacentino il noto avvocato di Cremona scomparso dalla sua abitazione la scorsa settimana. L'uomo è in buone condizioni ma in stato confusionale.